Uomini e donne. Riccardo Guarnieri dimentica Roberta Di Padua con un'altra. Una notizia bomba è stata lanciata dall'influencer campana Dejanira Marzano e nelle ultime ore ha infiammato il gossip. L'indiscrezione riguarda due protagonisti molto noti del turnover di Uomini e donne. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che nell'ultima stagione televisiva di Uomini e donne hanno dominato lo studio. Secondo Dejanira Marzano Riccardo Guarnieri avrebbe trovato un nuovo amore. L'influencer napoletana infatti ha pubblicato una foto del cavaliere pugliese felice e spenserato in compagnia di una donna misteriosa. Come didascalia della foto Dejanira ha scritto che i Guarnieri ha immediatamente rimediato e punzecchiandolo che non vede l'ora di rivederlo a settembre in studio come un cane bastonato. La Marzano ha dunque lanciato una chiara frecciatina a Riccardo. Il gossip intorno all'ex cavaliere pugliese non ha lasciato indifferente nemmeno la sua ex compagna Roberta Di Padua che ha scritto che il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori. Riccardo e Roberta hanno chiuso recentemente la loro relazione nata all'interno del dating show Mariano. L'ex coppia è stata più volte ospite del programma e l'ultimo confronto è stato particolarmente aspro. Non sono mancate accuse reciproche e confessioni inaspettate. Riccardo ha confessato infatti una cosa che ha lasciato tutti sconvolti. Il cavaliere Tarantino ha infatti confermato pubblicamente che tra lui e Roberta esisteva un accordo. L'accordo tra i due consisteva nel fingere di avere una crisi per restare il più a lungo possibile in trasmissione. La ragione? Consentire alla Di Padua di ottenere maggiore visibilità e sponsorizzazioni per Instagram. Chiaramente Roberta ha negato tutto e intervistata dal magazine di uomini e donne ha chiarito l'intera vicenda. Riccardo invece dal canto suo non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni a riguardo. Nell'intervista rilasciata a Roberta Di Padua, la dama di Cassino, si è voluta pulire la coscienza e ha fatto delle dichiarazioni importanti. La bella Roberta ha affermato di essere stata male perché in tanti hanno pensato che lei abbia preso in giro tutti. Ha tenuto a confermare che nei tre anni di trasmissione è sempre stata trasparente sia con il pubblico che con la redazione. Ha detto di aver raccontato sempre ogni minimo dettaglio di quello che faceva durante le uscite, di quello che si diceva con i ragazzi che frequentava. Ha affermato di non aver mai omesso nulla soprattutto con la redazione di uomini e donne che è diventata per lei una seconda famiglia. Ha poi asserito di aver fatto delle scelte che a volte sono andate contro il parere del pubblico proprio perché è una persona sincera e fedele a se stessa quindi sentirsi dire di aver preso in giro le persone l'ha molto ferita. Per quanto riguarda il cavaliere Tarantino non sappiamo se la donna in foto accanto a lui e pubblicata da Dejanira Marsano sia effettivamente la sua nuova fidanzata. Sappiamo però che Riccardo appare felice e dalle immagini la sua spensieratezza è evidente. Tutto lascia supporre che i guarnieri abbia già dimenticato Roberta di Padua e voltato definitivamente pagina. Anche se Riccardo è uscito allo scoperto con questa nuova foto in dolce compagnia sui suoi account privati ancora non è tornato ad essere attivo. Che si stia preparando per fare un dolce annuncio? Staremo a vedere! Voi nel frattempo cosa pensate di questa news? Secondo voi Riccardo ha ritrovato l'amore un po' troppo presto? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.